buon pomeriggio un bacione dal vostro matteo salvini potete visitare il tuli park tranquilli beati facendovi una passeggiata all'interno di questo di questo luogo magico di questo luogo fantastico senza aver paura di essere aggrediti in quanto il servizio d'ordine è stato potenziato e quindi vi sarò tutti felici e contenti un bacione un saluto buonasera bianchina la torturerò martedì prossimo a carta bianca con la storia del tuli park insieme a me dentro il tuli park ci sarà anche il mio amico costante il mio amico il poiana che sa imitare tutti i versi degli uccelli dalla lodola alla tortora e poi sicuramente ci sarò io ad allattare gli agnellini forniti gentilmente dalla mia amica michela brambilla che agnellini che potranno essere adottati insieme a canarini micetti e cagnolini crebio per la gioia di grandi e di piccini e poi ci sarò io l'ex sindaco di venezia e filosofo massimo cacciari ma non è questione di mantenere o meno il terreno quando farà caldo e si seccherà tutto perché servirà molta acqua acqua che verrà fornita dal gran canal se è solo il gran canal che può salvare il tuli park un saluto dal vostro massimo cacciari Grazie a tutti.